Non è difficile Ciao a tutti, sono Lorenzo dell'Associazione Culturale Voci di Mezzo tra i promotori del coro di quartiere Bovisa in Canta il progetto si propone di utilizzare il canto popolare, il canto corale come mezzo per far incontrare i cittadini del quartiere cittadini di tante diverse provenienze che attraverso il canto si possono parlare pur avendo lingue e culture di provenienza diverse attualmente nel coro ci sono più di 40 persone che partecipano tutte le settimane ci ritroviamo in una scuola elementare del quartiere perché il progetto continui abbiamo bisogno di risorse economiche che attualmente non ci arrivano da nessuna parte quindi siamo qui a chiedere il vostro sostegno tramite Eppela speriamo che vorrete sostenere questo progetto i soldi che raccoglieremo saranno utilizzati per il momento per sostenere i due formatori e coordinatori e gli obiettivi che abbiamo sono di far diventare questo coro un coro vero è un soggetto che sul quartiere si possa spendere per animazioni, feste di via e quant'altro grazie a tutti per il vostro sostegno grazie a tutti grazie a tutti